Musica Bella guys, benvenuti al mio canale, il mio nome è Tuminsegno Oggi siamo qui su Araya, un indie game d'horror Che quando parli sto prendendo gusto a farli E sempre, riguarda sempre leggende miti e leggende tailandesi Rob che riguarda il voodoo, sempre quello E il gioco dovrebbe essere diviso in tre parti Tre parti nel senso, tre personaggi E ognuno ha dei capitoli da affrontare dentro un ospedale Ma non penso sia solo dentro un ospedale Anche al di fuori dell'ospedale E classico, classica cosa un po' come dire alla The Ring Con questo fantasma un po' disturbato, malato Che rompe i coglioni E una cosa del genere Comunque sia, senza perdere altro tempo Direi di iniziare Oh, ci aprono già le porte E iniziamo allora Oh, eccoci qui, allora Game 6 Allora, che cazzo c'è scritto qua su? Non riesco a capire Ah Uh, piove Vado a comprare una mevanda Lo tornerò quando posso Vado ancora E andiamo E questo? C'è un miseri? Un amuleto Avete sentito? Wow, 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 wow Che succede? What? No, eh Oh, dude Amico, non fare questi scherzi, dude Dude Che, che, che Uh, buonissimo Welcome Welcome un cazzo Sì, lì dentro non si entra Ah, quel Sinistro del mouse Non si apre Per forza Mi deve fare entrare il quaderno Fottutamente buio Non si vede niente Uno che cazzo dovrebbe vedere qua dentro Sempre che non capisco Ah Un pezzo del giornale Un articolo che dice Cinque persone Brutalmente Assessinate E' Orribile tragedie Cioè Chi è? Ciao Non mi è vicino alla porta Non mi voglio avvicinare alla porta Buonissimo Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? No, 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 no Io non apro la porta Vai via Vai via Smettila Oddio non ti guardo No, vattene E' andata E' andata No No Col cazzo E' vero 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 Sì Ti piace dire E' stronza Sì certo E' ovviamente allora mi ritrovo in un ospedale Al buio Con un qualcosa di maligno E io mi devo mettere a cercare la provenienza della sua risale La sua voce Sì perché no? Uccidiamoci Uccidiamoci Questa è una cosa che fanno tutti quanti ormai Però Ehm Cazzo Cerchiamo questa voce Perché tanto è una cosa normale Le fanno tutti Ciò Di merda Stimiti tailandesi Voodoo No eh Fai ridere anche me Per favore Magari mi passa un po' la cagarella Ma Sì Guarda un po' Ah Anenti Vuoto Niente Ah Mininfarti Mininfarti Questa dovesse fuori Qualcuno se l'ha scordata? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ah Dute Non mi piace questa cosa Dute Ah Ah Yam yam Perché è così puio È fottutamente puio Questa sotto Questa si apre Oh wow Cosa Cosa? Cosa? Oh Dio 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 Sto manendo i brividi Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio dietro di me Oh mio Dio non di me che dietro di me Oddio i brividi Oh Dio i brividi Oh Dio io sono ci sono Ciao Fortuna che era dal lato giusto a parte che non c'era nessuno dietro di me oh credo che non c'era nessuno dietro di me credo oh Ghi ok chi è io non mi giro vado avanti vado avanti ok penso che siamo un po' grandi cieli per giocare con la palla no è la mia ombra si è la mia ombra qualcuno non si gioca con il cieli in questo modo con quella rotella sapete avete foto? bisogna fare silenzio altrimenti disturbiamo i pazienti Araya non sei simpatica per niente Araya sei sul cazzo ho paura a girarmi ho paura a girarmi ho paura a girarmi ok ok mi è stata aperta quella porta Araya te lo dirò sei molto gentile ad aprirle le porte ma so aprirle anche da solo e ciò vuol dire che vuoi che vado da quella parte? sì perché è tutto chiuso e io sei incazzata perché io ho detto che me la saprei da solo le porte ok questa è chiusa con permesso mi consenta niente scusa ah 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 di porta cosa mi ha coso che ho fatto io corri 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 stronzo corri porca pittana oddio oddio quella è malata oh guarda mi mi ha rifatto oh ma che cazzo vuole da me oddio oh sono più ah i mini infarti quindi questo era il capitolo di Marisa la troia ma che mi ha detto che mi è riuscito al cuore? perché mi ha detto che mi è riuscito al cuore? in that place. But that's just what I thought. The last time I saw Aria was here, years ago. That day she mysteriously disappeared. But then the other day I received a message from Aria saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight. I understand, I understand. It's okay. It's 24 hours tomorrow. It's nice that the game is finished here. It's awesome. The game was not bad. This game, Jay, voodoo, horror, are nice. I'm not really afraid. male, sinceramente, parlando, ecco, è una mia opinione, un pensiero, non so come la pensate voi, ma non li trovo male, però, queste storie così un po', cioè, è bello prendere un mito, le loro leggende, e poi trasformarli in un gioco, cosa che comunque sia, non è che la prima volta viene fatta, sono stati fatte tante volte con altri giochi, però, no, è carino il pensiero, comunque, io perché non ne ho mai provati, ecco, giochi così, io, sì, giochi di horror li ho giocati, ma non come questi, ecco, erano tutt'altra cosa, questi giochi un po', come dire, un po' alla The Ring, con quella storia di quella ragazza morta dentro la casa, qui diciamo che il fantasma, in questo caso, infesta un ospedale, e, niente, fa i cugli a tutti quanti, a quanto pare, cioè, fa i cugli, adesso non lo so, la storia precisa non la so del gioco, so solo che, vabbè, è catalogata, è suddivisa in tre soggetti, e una è Marisa, l'abbiamo appena vista, mi pare strano che Marisa, perché io, dall'ombra che vedevo a terra, ero un pelato, ero un uomo, ecco. Forse, Marisa, sarà la ragazza scomparsa? Non lo so, non lo so, vabbè, domani uscirà comunque sia il gioco, e non vedo l'ora di provarlo, penso che sarà una cosa che porterò a termine, nonostante mi faccia cagare sotto, molto, sì, molto. Comunque sia, guys, questo video si conclude qua, mi auguro che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo episodio, il mio nome è Loonsay, al prossimo video.